Il discepolo chiese al suo maestro una parola di saggezza. Il maestro rispose Siediti dentro la tua cella e questa da sola ti insegnerà la saggezza. Ma io non ho una cella, non sono un monaco. Certo che tu non hai una cella. Scusate. Ripeto. Certo che tu hai una cella. Guarda bene dentro te stesso. Dall'altro lato il ruggito della mucca viola di Seth Godin. Siete ciò che fate. Non siete l'ultima ruota del carro. Non siete assistenti né amministratori. Non siete fattorini e neppure manager. No, siete dei creativi. Un bene prezioso per la famiglia e la comunità. Persone che possono fare la differenza nell'organizzazione. potete dare la vostra impronta. Potete dare la vostra impronta, lasciare il segno, creare cose notevoli. Non siete tipi comuni. Siete straordinari. Grazie. E adesso, forza, fatevi l'onore e non deludeteci. Grazie. Grazie. Grazie.